Quinta vittoria consecutiva per l'Arezzo che vince di misura sul campo del Riccione per 2-1. Tre punti fondamentali per le ragazze a Maranto di mister Tiziano Pelliccione che continuano ad inseguire la capolista Bologna, sempre distante, due punti. Sin dalle prime battute di gioco la partita viaggia su ritmi alti con il Riccione che impedisce la manovra dell'Arezzo grazie ad un pressing continuo. Le padrone di casa sono più propositive e infatti hanno la prima occasione del match con D'Aprile che trova una conclusione dalla lunga distanza ma Valgimigli blocca senza problemi. Al trentacinquesimo però è l'Arezzo a passare in vantaggio con una posizione magistrale di Tuteri che sorprende Fara per l'1-0. Passano pochi minuti e Riccione impensierisce Valgimigli con una posizione d'Albani che finisce di poco a lato. L'Arezzo va a riposo in vantaggio. Nella ripresa le Amaranto hanno subito una grande occasione per il raddoppio con Ceccarelli che sbaglia il tappin sottoporta dopo la respinta di Fara su tiro ravvicinato di Razzolini. Al 73esimo le Amaranto trovano il 2-0 con Orlandi che di testa trasforma un corner battuto da Paganini. Passano pochi minuti e le Romagnole accorciano le distanze con Dalla Chiara che approfitta di un'incertezza della retroguardia a Amaranto. Il risultato non cambia e l'Arezzo porta a casa altri tre punti preziosi per continuare la rincorsa al primo posto. Prossimo impegno per le ragazze a Amaranto domenica 2 maggio in casa contro la Roma decimo quarto. Partita difficile perché soprattutto noi ci siamo calati nella loro dimensione. Quello che era stato visto in settimana per quanto riguarda le partite scorse del Riccione era questa confusione che loro sul campo mantenevano ma era un giocare che a loro portava molti vantaggi. Quell'errore che non dovevamo fare noi è quello di calarci nella loro dimensione. Questo invece l'errore l'abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo. Nel momento in cui abbiamo capito invece come si doveva ragionare sul campo e hanno cominciato le ragazze a fare quello che gli era stato chiesto ecco già gli spazi si erano allargati al nostro favore. Infatti intanto è vero nell'inizio del secondo tempo abbiamo avuto quelle occasioni per fare il 2-0 con Ceccarelli che tra l'altro porta vuota sfortunatamente l'ha mandata fuori. Poi ho trovato il 2-0 però lì qualcosa in più abbiamo avuto. Beh è stata una partita sicuramente difficile eravamo preparate probabilmente non ci aspettavamo così tanto il primo tempo non siamo riuscite a comunque improntare il nostro gioco ci siamo adattate a loro fortunatamente siamo riuscite a sbloccare la partita su un calcio piazzato che comunque in settimana proviamo secondo tempo eravamo ripartite bene poi abbiamo preso un calcio d'angoli di fila ci hanno fatto il 2-1 però siamo riuscite a portare a casa i tre punti quello è il fondamentale all'importante di ora. Penso che mai come in questo campionato si aspetti appunto gli scontri diretti e bene o male fra due giornate c'è proprio lo scontro tutti noi quattro perché siamo noi contro la Torres e Filecchio Bologna la giornata dopo è comunque decisiva perché entra in balla anche uno Iesina che comunque può prendere punti come ha dimostrato quindi sì nelle prossime giornate probabilmente si delinerà ancora di più il campionato.